Va bene, ma io penso che tutti abbiamo vissuto e stiamo vivendo un momento di grande ansia, di grande preoccupazione, credo anche di sofferenza. Per tutti noi che abbiamo creduto in questo progetto e continuiamo a crederci, per chi dieci anni fa, io e tanti altri tra questi, scelse di dare vita al Partito Democratico, un momento di sofferenza per il nostro popolo, siamo stati tutti destinatari in questi giorni e anche in queste ore, ancora questa mattina, di una sollecitazione, un'invocazione pressante, spesso angosciata, che ci chiede unità e coesione, perché questo ce lo chiede e ce lo chiedono in tanti, in tantissimi, che nel congresso e nella vita democratica del nostro partito hanno tuttora collocazioni diverse. Sono stato, credo come me, tanti, destinatario di questo appello da parte di compagni e amici che so che hanno votato no al referendum mentre io ho votato sì, ma tutti abbiamo presente che non è in gioco il dissenso e il consenso su questo o quell'aspetto della nostra politica, ma che stiamo discutendo delle ragioni stesse per cui abbiamo dato vita al PD e della necessità di non compromettere un progetto in cui abbiamo scommesso negli ultimi vent'anni dalla Costituzione dell'Ulivo ad oggi. Io ho ascoltato l'intervento di Guglielmo e dico che quell'intervento che ci ha espresso, ci ha posto problemi interrogativi, domande, è un intervento da congresso. Quell'intervento è l'intervento che io mi auguro di ascoltare nel congresso da parte di tutti coloro che hanno dei dissensi, che hanno dei dubbi, che hanno degli interrogativi, perché è del tutto legittimo avere un dubbio sui licenziamenti collettivi. Ce l'ho anch'io, che pure credo che il Job Act sia stato un provvedimento che ha aperto la strada della modernizzazione di un mercato del lavoro per troppi anni fermo e ingessato. È del tutto legittimo avere dei dubbi sulla legge elettorale e esprimerli. Può avere dei dubbi sulle altre questioni su cui Guglielmo ci ha espresso le ragioni di un dissenso, ma sono quelle ragioni legittime e di cui credo dobbiamo tutti discutere e ascoltare con grande attenzione, ragione per una separazione, per mettere in causa l'adesione al partito. Ci si scinde, ci si separa, quando si hanno visioni inconciliabili, progetti di segno opposto, scelte che portano a intraprendere altre strade e altre direzioni, ma io non credo che nessuno di noi ha scelto di aderire al Partito Democratico sulla base della convinzione della bontà di una legge elettorale piuttosto che di un comma, di un articolo, di una legge, qualsiasi sia essa. Cioè io penso che quelle ragioni, quelle ragioni che io voglio discutere, perché sono tutte ragioni che Guglielmo ci ha espresso con argomenti e che un partito che si chiama Democratico non può svolgere lo sguardo mai. Da un'altra parte, quando viene posta un'obiezione, una domanda, una questione, abbiamo bisogno sempre di avere la capacità di ascoltare ogni opinione, al di là del grado quantitativo di consenso che raccoglie, perché un partito si costruisce in primo luogo se è capace di ascoltare e sulla base dell'ascolto di realizzare quelle sintesi in cui ciascuno possa sentirsi rappresentato. Io penso che ci siano tutte le condizioni perché noi facciamo una discussione, un congresso vero. Si è detto in queste settimane non vogliamo un congresso, è un'espressione che richiamo perché è stata usata, delle figurine. Ma io interloquendo in questi giorni con Pierluigi, ho scritto ma io e te Pierluigi e qui con me tanti, di congressi ne abbiamo fatti tantissimi, di congressi e di figurine non ne abbiamo viste mai nessuno, in nessun partito. Perché un congresso non è soltanto il dibattito tra i suoi gruppi dirigenti, è anche questo. Il congresso è sempre un grande momento di partecipazione di centinaia di migliaia di persone che esprimono i sentimenti, le emozioni, le passioni, le loro idee, le loro proposte. Non esistono i congressi finti, non è la temporalità di un congresso che determina la qualità di un congresso. Io credo che il congresso in qualsiasi momento noi lo collocheremo, sia che lo collochiamo di qui a quattro mesi, come mi pare sia a questo punto necessitato perché lo statuto da questo punto di vista è vincolante di fronte alle dimissioni, lo statuto va fatto entro un certo tempo, sia che fosse stata accolta la decisione di collocarlo in un tempo più lungo. Io penso che sarebbe stato naturalmente un congresso vero e lo sarà e abbiamo il dovere di fare in modo che lo sia. C'è un mondo che cambia intorno a noi, lo sappiamo, non abbiamo bisogno di dircelo qui tra dei dirigenti. Che cosa sta cambiando nell'agenda politica internazionale con l'elezione di Trump, tutti i travagli che vive l'Unione Europea da Brexit alle spinte centrifughe di questo o quel Paese, alle difficoltà di rimettere in moto una politica che sia capace di far percepire l'Unione Europea come una convenienza e non soltanto come un vincolo. C'è un mondo che cambia e c'è un mondo che cambia intorno a noi producendo sofferenze, perché la crisi produce sofferenze. E sappiamo come in Italia, come in tutto il mondo, il grande tema di fronte a quale è la politica e fare i conti con un sentimento di esclusione, di solitudine che tanta gente esprime, tanta gente che appunto vede messa in discussione le proprie certezze di lavoro, di reddito, di futuro, di futuro dei figli. Ed è la ragione per cui quel sentimento poi si trasforma in un rifiuto di ciò che la politica propone, nell'adesione a parole d'ordine di natura antisistemica o populistica che cercano appunto di cavalcare e dare rappresentanza a chi ha torto ragione, perché non sempre è vero, ma ha torto ragione, si sente escluso e si sente non rappresentato. C'è un mondo che è questo il terreno del nostro dibattito. E il congresso lo dobbiamo fare per questo, perché veniamo da due sconfitte pesanti, le sconfitte amministrative del 2016 e le sconfitte del referendum. E abbiamo di fronte passaggi che non saranno meno impegnativi, come il referendum sui voucher e sugli appalti, come le elezioni amministrative nel quale voteranno tanti capoluoghi di regione e di provincia, Genova, Palermo, Pistoia, Cuneo, Astia, Alessandria, Taranto, la Taranto dell'Ilva e via di questo passo. E abbiamo di fronte, ancora più impegnativo, un grande tema che è la legge di stabilità che dovrà essere fatta nel 2018 e che sappiamo tutti è una legge di stabilità che ci obbliga ad affrontare nodi spessi che in questi anni in parte sono affrontati ma non risolti, a partire dall'enorme debito pubblico che grava come un macigno sulle spalle del Paese e senza risolvere il quale non avremo i soldi per sostenere quella politica di crescita che è necessaria per restituire lavoro a chi oggi non ce l'ha o non l'ha mai avuto. E questo è il tema del congresso. E lì dentro, certo, ci possono essere, ci sono legittimamente, opzioni programmatiche diverse. E anche per questo in queste settimane abbiamo discusso e a chi avanzava la necessità di avere un momento di approfondimento programmatico, l'ho fatto io per primo in un'intervista all'Unità quasi un mese fa, Orlando lo ha ripreso, altri hanno avanzato questa proposta. Si è detto che questa proposta aveva un senso e nel percorso congressuale abbiamo proposto che il percorso congressuale conoscesse appunto un momento di approfondimento programmatico che fosse capace di, prima di andare al momento della competizione tra candidati, di rendere esplicito e chiaro quali sono le opzioni di fondo. I congressi si fanno per questo, non si fanno i congressi per decidere se un governo sta in vita. Si fanno i congressi per definire gli assi strategici, il profilo, la linea di fondo che un partito sulle questioni nodaliche di fronte intende esprimere e realizzare. E se è così io dico ai compagni, agli amici che esprimono una posizione di minoranza e che si interrogano se c'è uno spazio nel loro partito. Questo spazio c'è tutto. Il PD è la casa di tutti, il PD è la casa di chi è maggioranza e di chi è minoranza. E se andiamo a un congresso, l'obiettivo del congresso, prima ancora che la discussione di merito sulle varie questioni, sarà di uscire da quel congresso dimostrando che quella è la casa di tutti coloro che condividono il ruolo e la funzione che il PD può avere in questo Paese. E sappiamo anche tutti quali sono i rischi da un'eventuale separazione. Quando io ho visto che si usava la parola scissione ho avuto subito un grande turbamento perché ci sono parole che se pronunci poi ti vincolano. Che poi ti vincolano. E quando si usa quella parola ci si mette su una strada che poi non ci ha avuto, si è prigionieri della parola. Ecco, non siamo prigionieri della parola. E io colgo come un dato positivo che Guglielmo abbia detto, scissione è una parola che non mi appartiene, non l'ho mai usata, non ho mai fatto scissione. Bene, accantoniamo, tiriamola via sta parola. Non usiamola più. Partiamo dal dato che siamo tutti dirigenti e militanti di questo partito. E proviamo a creare le condizioni perché il Congresso che da oggi parte, a partire appunto dalle dimissioni del Segretario, sia un Congresso nel quale ci misuriamo, discutiamo, affrontiamo tutti i nodi e facciamone un grande momento non solo, come sono sempre i congressi, sempre anche questo, per questo non sono finti mai i congressi, non è solo il Congresso mai un momento di discussione interna. Il Congresso di un grande partito, soprattutto quando il partito ha il governo, è un momento di confronto con la società. Quello che discute quel partito viene seguito da tutti coloro che anche a quel partito non aderiscono, sia che lo guardino con fiducia, sia che lo avversino. Perché chiunque percepisce che quello che quel partito decide influirà, avrà un impatto nei comportamenti di tutti e noi abbiamo il dovere di fare in modo che il Congresso sia appunto un grande momento di partecipazione democratica, di confronto alla società, di apertura ai saperi, alle proposte, alle domande che la società italiana ci pone. E fare il Congresso non mette in causa il nostro sostegno al governo, che è pieno. Non siamo di fronte a un governo né temporaneo né transitorio. È un governo che è nella pienezza dei suoi poteri e nella pienezza della sua titolarità e deve essere così. E Paolo, che credo di cui tutti apprezziamo la straordinaria fatica e generosità, sta guidando questo governo con autorevolezza. E la posizione del Partito Democratico non può che essere quella di sostenere questo governo pienamente per tutto il tempo del suo mandato. Perché così è. E il Congresso deve discutere di come il PD ha una proposta politica e programmatica che, interloquendo con l'azione di governo, perché un governo non è mai solo figlio di un partito, ha una responsabilità come qualsiasi livello istituzionale di relazione e di rappresentanza più ampio, come il PD con le sue proposte e con la sua politica, lo sostiene. Insomma, non vedo davvero francamente, neanche questa mattina, tanto più dopo l'intervento di Guglielmo, le ragioni per cui si debba abbandonare la strada e il cammino comune che fin qui abbiamo condotto. Perché sappiamo anche che ho le rischi corriamo. Un PD mutilato sarebbe un PD più povero. E chi uscisse e abbandonasse il PD non avrebbe certamente vita facile nella sua relazione con il Paese. Il governo e la maggioranza di governo verrebbero infragiliti. Paradossalmente da un atto di chi, in particolare in queste settimane, ha teso a sostenere che una bussola fondamentale del nostro giro doveva sostenere il governo e la maggioranza fino in fondo. E quindi, a maggior ragione, una qualsiasi forma di separazione è contraddittorio con questa volontà. La stessa riaggregazione del campo del centro-sinistra che è necessario, certo, ma è necessario non perché abbiamo perso il referendum. Attenzione. E non è necessario neanche solo perché potremmo andare verso una legge elettorale più proporzionalista che di tipo maggioritario. No, c'è una questione più di fondo, la devo dire perché è una mia convinzione da sempre. Io ho creduto, insieme a Romano Prodi, insieme a Valtri, insieme a tanti di voi, nella scommessa del bipolarismo. E continuo a crederci. Ma in Europa il bipolarismo non è bipartitico. In Europa il bipolarismo è pluripartitico. In qualsiasi paese in cui c'è il bipolarismo, il bipolarismo è un bipolarismo di coalizioni, caratterizzato da un partito grande a vocazione maggioritaria. Non c'è contraddizione tra l'essere un partito a vocazione maggioritaria e un bipolarismo pluripartitico. Da un grande partito a vocazione maggioritaria che poi ha la capacità di costruire intorno a sé uno schieramento più largo coalizionale. E quindi questa riaggregazione che dobbiamo mettere in campo, e ci sono dei soggetti che lo stanno facendo, Giuliano Pisapia per primo, ma anche altri processi sul fronte moderato che sono in corso, sarebbero tutti più difficili se il PD si indebolisse. Perché proprio per la ragione che ho detto, la possibilità di costruire una coalizione larga e vincente ha bisogno di un perno fortissimo per non essere appunto una coalizione che ricade nel rischio e non soltanto il rischio di quel che già abbiamo conosciuto e valga per tutti l'Unione. Io ero segretario dei PDS, erano gli anni dell'Unione, dovevo fare i conti ogni giorno con 17 formazioni politiche che facevano parte della maggioranza. Ogni mattina facevo 16 telefonate e alla fine della sedicesima non sapevo più dove ero. E quindi certo non vogliamo tornare a quelle coalizioni là. E guardate l'Ulivo, l'abbiamo fatto anche per questo, perché il PD l'abbiamo fatto anche facendo tesoro dell'esperienza dell'Ulivo, non solo di tutto il patrimonio straordinario positivo che l'Ulivo aveva accumulato e che con il PD abbiamo voluto consolidare, ma anche facendo tesoro dell'esperienza che, del fatto che quell'esperienza per due volte era stata bruscamente interrotta e interrotta non per la capacità di far cadere i governi dell'Ulivo da parte dell'opposizione, ma per le contraddizioni interne di una maggioranza fragile. E allora se noi vogliamo riorganizzare un campo con un grande partito che lo guidi, qualsiasi forma di separazione sarebbe contraddittorio, un elemento di indebolimento di questa strategia. e si aprirebbero le porte alla possibilità che la destra, le destre, la destra di Berlusconi e la destra, ma anche la destra di 5 Stelle, si proponga agli elettori e possa raccogliere un consenso, come è accaduto, come è già accaduto. E anche il nostro rapporto con l'Europa, quando, perché guardate, il panorama europeo ce l'abbiamo presente tutti, una crisi del Partito Democratico non ha solo un'incidenza nella dialettica e nella geografia politica del nostro Paese, è un ulteriore colpo a un campo riformista europeo in grande affanno. Nel momento in cui sappiamo, dalle elezioni francesi alle elezioni in Olanda, per parlare solo dei due appuntamenti elettorali che sono davanti a noi, i rischi sono grandi. Allora io penso che per tutte queste cose non c'è la ragione per separarsi. E anzi, se mai c'è la ragione, questo passaggio difficile, ci sono le crisi, le crisi sono anche un'occasione di crescita, sono anche il momento di fare i conti con i problemi e le contraddizioni, ma per rilanciare tutte le motivazioni per cui noi abbiamo fatto il PD dieci anni fa. Guardate, sono tutte in campo e sono tutte valide. Facciamo il PD per andare oltre il Novecento, ma non perché ci pentissimo di cosa era stato il Novecento, ma perché tutte le variabili intorno a cui avevamo costruito nel Novecento la nostra politica, erano tutte sottosopra, sotto i colpi di una trasformazione enorme. Ho finito. Di una trasformazione enorme. E tutte le variabili fondamentali intorno a cui avevamo costruito l'identità, le esperienze politiche sindacali del campo progressista della sinistra erano sottoposte a enormi cambiamenti. E quindi c'era la bisogno di fare i conti con una società talmente cambiata da non poter essere gestita semplicemente facendo riferimento al pensiero, alle esperienze e alle forme con cui l'avevamo fatto fin lì. E puntammo a costruire le condizioni di una unità delle forze democratiche, delle forze progressiste, delle forze riformiste, non come incontro di gruppi dirigenti, non come incontro di ceti politici, ma partendo da una convinzione che i valori fondamentali intorno a cui forze politiche di segno diverse si erano per lungo tempo opposte, erano valori che ci potevano unire. E tutto questo oggi è tuttora valido. Se per usare una formula che usiamo allora serve un partito nuovo con un pensiero nuovo per un secolo nuovo, questa formula è tuttora valida. Pensiamo al PD per aprire una stagione nuova della democrazia italiana. che facesse i conti con la necessità di riorganizzare il sistema politico. E dobbiamo prendere atto che quella scommessa oggi è in causa, perché abbiamo spuntato sul costruire un sistema bipolare, pur pluripartitico, e ci troviamo di fronte a un sistema tripolare. E questo ci impone una riflessione, una discussione. ma non viene meno però l'obiettivo di dare a questo Paese un sistema politico istituzionale che gli garantisca stabilità e governabilità, oltre che rappresentanza. Abbiamo fondato il PD perché l'esperienza dell'Ulivo ci consentisse appunto di dare a questo Paese un grande soggetto riformatore, innovatore, che fosse in grado di cambiare le cose. Abbiamo fatto il PD per cambiare questo Paese, per aggredire le tante criticità strutturali che per lungo periodo non si è avuto la forza, la capacità, o non c'erano le condizioni per affrontarle. Abbiamo costruito il PD anche per contribuire a una innovazione forte del campo delle forze socialiste e riformiste europee, perché il problema che si poneva in Italia si pone anche là, si pone anche negli altri partiti. Io ricordo con quale sufficienza un leader di un partito, non ha importanza il nome, socialista europeo mi parlò delle primarie quando le facemmo per la prima volta. Poi quel partito le primarie le ha adottate per scegliere i suoi candidati, c'è stata anche lì un'evoluzione. E l'esperienza del PD è un'esperienza importante per il socialismo europeo. E quando con Franceschini compimmo il primo passo di nostra presenza lì, l'adesione al gruppo dei socialisti e dei democratici al Parlamento europeo. E di lì comincia un percorso che poi Renzi ha completato con l'adesione al PSEE. Lo abbiamo fatto non per rinunciare alla nostra identità, ma perché siamo convinti che l'originalità della nostra identità può concorrere e contribuire a ridefinire anche l'identità del campo delle forze progressiste europee. Questa è stata la scelta. Allora, tutto questo c'è. Non c'è nessuna ragione per cui si debba mettere in causa questo progetto. Certo, è un progetto anche che ha avuto tanti limiti e Renzi ne ha indicato uno che è il limite più grande, che è il limite di un partito che ha visto indebolissi il suo radicamento sociale, il suo radicamento territoriale, di una dialettica interna che è più competizione tra correntismo che non confronto tra programmi e idee. Però tutto questo si può affrontare e si deve affrontare insieme. E lo si può fare insieme. Allora, io penso che per queste ragioni abbiamo bisogno di stare insieme. Il mio appello è a stare insieme e a fare del congresso, di un congresso che parte oggi, l'occasione per affrontare tutti questi temi e insieme uscirne. E uso anch'io due parole e finisco. Rispetto, certo. Ho finito. Rispetto. Rispetto, sono d'accordo. C'è una regola che va al di là della politica, è una regola delle relazioni umane. Riconosce all'altro lo stesso rispetto che rivendichi per te. Vale anche nella vita del partito. E quindi noi non pronunceremo mai una parola che non sia di rispetto verso qualsiasi nostro militante o compagno, quale che sia la scelta che fa. E però anche orgoglio, orgoglio di cosa siamo, orgoglio di questa straordinaria comunità, orgoglio del patrimonio, orgoglio del patrimonio straordinario di idee, di sapere, di competenza, di passione, di generosità che questo partito rappresenta e che è la speranza di questo Paese. Non c'è un altro progetto per la guida dell'Italia. Non ce l'ha il Movimento 5 Stelle, non ce l'ha la destra. L'unico progetto in campo è il nostro. Abbiamo il dovere, la responsabilità di non farlo fallire, di non comprometterlo. Questo è davvero l'ora della responsabilità di tutti noi. Abbiamo bisogno appunto di tornare a essere comunità. Un partito non è soltanto un aggregato di donne e di uomini che stanno insieme per obiettivi comuni, anche. Un partito è una grande comunità che si riconosce in valori comuni, ma soprattutto ha la consapevolezza di una comune responsabilità e di un comune destino. E io credo che tutto questo ci debba portare appunto a credere in questo partito e a scommettere tutti insieme in questo partito. Grazie.